L'indsay Loan è una sexy co-girl per l'official Spagna Era passato ormai troppo tempo dalla sua ultima copertina, e l'indsay Loan ha provato che, dopo due anni di assenza dai fashion magazine, ci era mancata davvero. Con la copertina dell'official Spagna di ottobre, l'indsay ha sbaragliato la concorrenza con uno scatto ma che uffri. Avete capito bene, quasi, completamente struccata. Su una visita di moda. L'indsay Loan, meraviglia senza trucco. Ci vuole coraggio a posare per la copertina di una celebre rivista di moda senza trucco e senza inganno, sfoggiando solo il proprio viso e un aspetto in piena salute da invidi allo stato puro. Nella copertina, l'indsay Loan è una co-girl che veste prada e calamita la sua attenzione con lo sguardo ma che uffri che la rende, se possibile, ancora più bella. Qual è il suo segreto? Le male lingue penseranno a Photoshop, ma a quanto pare l'indsay si tiene giovane dopo un'adolescenza d'eccessi con una dieta sana e una fitta agenda di impegni lavorativi che la rendono felice più che mai. All'età di 31 anni, infatti, l'indsay Loan ha aperto una discoteca in Grecia e non vede l'ora di discuterne con l'officiel, che le dedica la sua intervista. Aprire il mio club è stata davvero la cosa più incredibile che io abbia mai fatto. È sempre stato un mio sogno, e finalmente ho potuto creare uno spazio dove le persone possono sentirsi al sicuro. E non è finita qua, ora che ci ha preso gusto, l'indsay vuole espandersi e sogna la conquista del mondo, al momento stiamo pensando di aprirne altri due, uno a Dubai e uno a New York innanzitutto. Il Loan Night Club sta per riaprire i battenti per la stagione invernale dopo la regolare chiusura estiva. Loan, una linea d'abbigliamento tutta per l'indsay. E tra i mille impegni quotidiani di l'indsay Loan ci sono anche nuovi piani di business per diventare un punto di riferimento per le più giovani. La sua idea più recente si chiama Loan, e potrebbe presto tramutarsi in realtà trasformandosi in una linea d'abbigliamento firmata dall'attrice socialite. La notizia non giunge come una novità, visto che l'indsay aveva già pubblicato un piccolo teaser, a marzo, sul suo profilo Instagram. In un oceano super competitivo di brand firmati dalle star, l'indsay punta ad una specifica necchia di mercato di cui divenire regina indiscussa. Che cosa ci si aspetta dall'ex festaiola convertita l'indsay Loan? Di sicuro, non quello che bolle davvero in pentola. Infatti, l'attrice starebbe progettando una linea di abbigliamento modesto pensato apposta per le donne dei paesi islamici. A quanto pare, infatti, l'attrice si trova vicina ora più che mai all'islam, e la sua scelta religiosa è traslata nei suoi abiti sempre più bontonei, facendoci un po' caso, parecchio meno scollati del solito. Di fatto, Lilo non si è mai davvero convertita, ma è risaputo che la religione gioca un ruolo fondamentale nella sua vita quotidiana. . .